Allora, ci dite da dove venite? Noi veniamo da Foggia, rappresentiamo la storia, facciamo quasi tutti gli sport. La grande squadra è andata ai giochi nazionali di Napoli con la FISD, la direzione italiana degli atleti diversamente abili. Oggi siamo qui in questa bella festa, un bel clima di aggregazione, di prova dei vari sport, in un'atmosfera veramente magica. Grazie a Staffiero per aver organizzato questa bella manifestazione. Ciao a tutti. Quanti siete alla storia nel gruppo, complessivamente, tutti i ragazzi che praticano queste discipline? In totale siamo un gruppo di 38 atleti, tra cui ci sono anche bambini autistici, down, problemi relazionali e mentali, dai 5 anni fino ai 35 anni. Abbiamo due campionesse mondiali di nuoto sincronizzato, Cirina e Martina, e quindi una bella soddisfazione essere i primi al mondo. Da dove? Da Foggia. Da Foggia. Grazie. 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 Eh, ma voi chi siete? Noi siamo nel filo del sorriso. E cosa fate? Facciamo, diamo, account terapia. Vedi, saluta, saluta. Io sono il Civico 21. Civico 21. una volta si accoglie il sorriso voi siete va bene ora pepe ora ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.